Ragazzi buongiorno, ci siamo, si parte, sono di qua. Ragazzi buongiorno, sono le 4.35 di buongiorno. Di buongiorno, come mai ti sei alzato così presto? Buio. Che buio, buon notte ragazzi. Abbiamo una macchina piena, si è borsato in casa per due giorni, ti rendi conto? E mi spulcia. Guardate che bello ragazzi, dove siamo? Questa è una giugia. Bellissimo. Arnosetto. Sì, Arnosetto. Guardate che bello. Da verso SBX SS 175, poi entra in SP3. Dall'altro dei cedri. Guardate che carina Matera ragazzi, siamo in Basilicata. un po' di numero. Spostati. Calma. ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Guardate che bello, è intagliato proprio dentro il sasso. Grazie a tutti. Guardate che bello, guardate che bello, guardate. Grazie. Guardate che bello, guardate che bello. Guardate che bello, guardate che bello. Guardate che bello, guardate. Sto gridando praticamente da un sacco di chilometri. Guardate che bello, guardate che bello. Per una che non ha Primark, capirete. Guardate che bello. Guardate che bello, guardate che bello, guardate che bello. Guardate che bello, guardate che bello. Mi sfoce questo. È finito? Ragazzi mi sto sentendo male E' meglio che mi ha mangiato prima E' lunga 850 Vedi che ho 4 portapenelli E' ancora Mi sto sentendo male Addirittura Lo so Sto riprendendo Eh questo già La casa piena Nella casa Grazie Massimo Ragazzi guardate che carino Il lungomare di Bari E' il lungomare 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 Poi svolta leggermente a sinistra In parallela via Caduti Via Caduti Siamo a Pistoia No Via Caduti E' grande, guardate con te queste piazze, vediamo un po' cosa c'è di bello, firmate le piazze ragazzi. Mi sfocci, intanto che vi piace. Si vede, voglio operare. Grazie. Che bello!